Bentornati ragazzi, qui è Stepney, eccomi di nuovo su Minecraft dopo si può dire una lunga assenza da questo gioco Allora, ci sono dei motivi per i vari non ho giocato, ve l'ho già detto in altri video, non ho avuto tempo Sono stato in vacanza da mio padre, sono tornato e ora ricomincio Allora, mettiamo in chiaro alcune cose Ho cambiato la texture perché oggi, come richiesto da voi, andrò nel Nether E con la texture vecchia che non avevo patchato, non si sarebbe visto niente, si vedeva tutto blu E quindi ho deciso di mettere la texture iniziale, che è quella base di Minecraft Per, insomma, farvi capire quello che stavo facendo, altrimenti voi ci rimanevate un po' male Allora, mi sono rimesso un po' di frecce, mi sono fatto l'arco Oddio, aspetta Ho preso un coso di questo per prendere la lava E adesso andiamo, dai ragazzi 3, 2, 1, bella Blah, 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 blah Allora È molto che non gioca a Minecraft, quindi non so se ci sono anche nuovi mostri, cose del genere Non ne ho idea, sinceramente Ah, ok, a parte che sta laggando tantissimo, allora Bene Cos'è quella isoletta di Skyblock? Ah, perfetto Allora Devo ricordarvi di questo posto qui, perché se no non ritorno più a casa Cazzo, potevo portarmi una pala Ma questa come si spacca? Col piccone Ok, sì Spacca col piccone in un colpo, così semplice Ah, bene, allora, scendo qui Wow Oh, devo dire che è stata un'idea grandiosa No, è stata una fantastica idea scendere di lì Porca puttana, no Ok, il video comincia malissimo, malissimo come sempre Perché mi fa rinascere il nether? Boh, ora si guarda No, non mi fa rinascere il nether Che dannazione Allora, che cazzo mi porto? Che cazzo era quel verso? Cos'era quel verso? Oh, cazzo Aiuto No, 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 non ci siamo Via, 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 via Allora, ragazzi, adesso la missione sarà Ritrova la roba del nether Perché, porca puttana Quello che cazzo era? Mi si chiamano? Mi si chiamano? Aspetta, non mi viene il nome Enderman Enderman? Non lo so, Enderman Boh, vabbè Oh, cavolo Allora Io sono morto Là sotto Giusto Passare di là Ma perché con l'altro piccolo le spaccavo subito? Boh Oh Che cavolo Che cavolo Almeno stupido Che cavolo C'è un maiale davanti a me C'è un maiale davanti a me La la leo La la leo No Non mi devo scavare No Il maiale mi ha spinto Mi ha spinto il maiale Ve lo giuro Aiuto Figlio di fu- Puttana Devi morire Cade di sotto Stupido Allora Non riesco a giocare molto bene Perché come vi ho detto È da molto che non ci gioco Ho perso un pochino la mano Eh, devo essere sincero Però non pensavo Alla cosa del genere Poi questa texture è bruttissima Non si vede niente Eh, ma lo faccio a scendere laggiù Senza morire Allora Bisogna organizzarci La mia roba è là sotto Se cado da qui Forse non mi spezzo tutte le gambe Dai, provo a scendere così Dai, va bene Allora ragazzi Oh Ho perso quasi tutto Missione semi-compiuta in parte Diciamo Allora, riorganizziamo un po' l'inventario Allora, spada qui Questo puoi prendere la lava Qui Spada di secondaria Qui Frecce qui Arco lì Allora Che cazzo sono questi rumori? Questo qui Dove è quel piccone Avevo di fietra? Eccolo lì Bene Bene Allora Io farei una scorta di questi Tanto per E vado laggiù dove c'è la lava Dai, dai, dai Che sono sti rumori? Ok, c'è un porco Mi devasto subito Guarda come sono accaniti Sono veramente dei porcelli Vabbè Dove una shot Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Aiuto Help Che porcelli Dai No 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 Veramente no Cazzo Ok Ultima vita Cioè, ultima vita per questo viaggio Dai Che cavolo Mi serve questo Pietra Non ho armi Devo farmene Oh cavolo Quello Cavolo di Ender Ma mi fa paura Mi sa che non lo devo guardare Allora Oh è sparito Wow Questi nuovi mostri Li odio Tata 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 Andiamo Faccio anche una pala Così Il caso Pronti Verso l'infinito E oltre Ma come cavolo faccio A sconfiggerli Tutti i cavolo Di mostri Allora Allora Terza Terza entrata Nel Nether Un'altra Un'altra Rientravamo Rientravamo in set Bam No Ok Quando mi si scava veloce con questo Inchiatta l'altra roba Allora Dovamo andare di là Non devo cadere stavolta Se no mi faccio troppo male Muoio Ma che diavolo Uno mi ha fatto già di sud Sono fottuto Dai rischiamo Ok è andato abbastanza bene Ecco gli là Qui i maledetti Mi hanno ucciso Venite Ma ti voglio bene Anch'io Ti voglio bene Anch'io Aiuto Ah No sono troppi Sono troppi Sono troppi Sono troppi Sono un'andata Quad feed Ok sono all'Uav Chi mi segue Sa che ho anche Diciamo Ultimamente smesso Tra virgolette Di giocare a Call of Duty Ma Ci sta che stasera Quando torno dalla palestra Romincio A fare qualche partita Prendiamo un coccolano di lava Lo porto a casa Allora Ho visto un fungo Quesso Uh funghi Ora ricercherò su internet Il coso degli achievement E farò in modo Da Da cosare Che cavolo è questo? Gold nugget Cos'è? Ah ho venato Popnage Allora Si stavo dicendo Ritrovo il coso degli achievement Che sarebbero Diciamo Scusate I trofei Poi parole Gli obiettivi raggiunti Ecco E Cercherò Boh Di Di fare In modo di Raggiungerli tutti Stavolta Con qualche Diciamo Coso in più Trofeo in più Tipo raggiungere la terra firma Che ho già fatto Ui miei polli Allora io Proporrei Uh quelle Da su Le voglio Uh funghi 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 Con i funghi Si fanno Le zuppe Ti rendono abbastanza Vifa Sono molto No 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 Ho perso tutto Ho perso tutto Cazzo Che depressione No Tre volte Sono morto Tre volte Che accosso Vabbè ragazzi Altri 4 minuti Però non vado più Nel nether E basta Sono morto Già troppe volte Avete visto Com'è il nether Avete visto Che non è Non è per nulla Bello Qua giù Utilerebbe esserci La mia produzione Di funghi Uh belli Perché ho letto Su internet Che se li tieni Al buio La stanza al buio I funghi Spawnano E boh Oddio Proviamoci Allora in futuro Tornerò nel nether Per Per cosare Per provare A sconfiggere Quegli schifosi Bene Perché Per il momento Mi hanno battuto loro Una zero per loro Andiamo a vedere qua Come sta il grano Già con questa texture Non si apisce molto Eh Io sono abituato Con quell'altra Vista da cosi C'è l'apiscopo Ta ta Bene Chiamiamo la porta Eh Se avessi un po' di materiali Da parte Vedete No Quello è schifo Un po' di terra Ecco Cobblestone Posso iniziare A fare La zona Nella quale Dovrebbero Spawnare In futuro I mostri I mob Neutrali Però non ho più legno Aspetta Dammi questo Dammi questo Dov'è i bombi Allora La zona dove fa Spawnare Mucche Pecore Tutto Insomma E In quel modo Otterrò un altro achievement Perché se non ricordo male Uno di quelli Era quello Quello appunto Dai Eh ragazzi Allora È già 12-13 minuti Che faccio questo video Quindi Ci avviamo Alla fine Finisco di fare Un piccone Qui Quattro Due Due Ho perso anche un sacco di Ho perso un sacco di Di ferro Oh Cavolo Dio mio Facciamo E2 D32 Dai possiamo Cominciare Questa in pratica Per chi ancora non ha capito Sarebbe la zona Nella quale Devano nascere No Devano nascere Gli animali Ecco Gli animali Ecco Quelli li ho sprecati Potevo fare così E deve essere una zona Discretamente ampia E chiusa Mi sa Quindi chissà quanto mi ci vorrà Quanti episodi ci metterò a finirlo Allora Contiamo 1 2 3 4 5 6 Dal bordo Quindi 1 2 3 4 5 6 Ok Faccio un quadrato vai 8 2 3 4 5 6 7 8 Allora Voglio ricordarvi Che Non posso nominarvi tutti Voi continuate a chiedermi di essere nominati Ma mi mettete in difficoltà in questo modo perché Cioè mi dispiace non nominarvi Però ho già detto che non avete nominato se non avessi reso diciamo idoneo farlo Se vedo che il vostro canale è molto bello Mettete video discreti con un'utenza abbastanza attiva Non necessariamente attiva Comunque Io posso farvi per voi una piccola sponsorizzazione in un video a parte Guardate dove è nato un fungo Devo prenderlo assolutamente Devo prenderlo assolutamente E poi finisco l'episodio Allora è nato un fungo qua sotto Devo prenderlo Oi Aspetta Lo sapevo Che come cavolo ho fatto a nascere un fungo qua? Bene Abbiamo preso anche il fungo nascosto Quindi ragazzi Oh guardate cosa c'è qui il pezzo iniziale della nether Del nether Mettiamolo lì in bella vista Aspettate faccio una cosa carina e poi stacco Allora Fermi eh Fermi tutti non andate via Aspettate un attimo eh Faccio una cosa molto bella Dove l'ho infilata la piccozza Un video troppo lungo sta avvenendo Cavolo Chiudi Il pezzo di nether Andava portato in salvo Guardate canzo Quasi faccio un pavimento qua di Di vetro Che ne pensate? Lasciatemi nei commenti Eh se volete il pavimento di vetro in questa zona centrale diciamo Per vedere cosa c'è sotto il vuoto Lasciate due gente mi piace a questo video Altrimenti ve l'ho detto io Posso uccidervi quando voglio Faccio uno schiacco di tempo e morite tutti Quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video Spero che vi sia piaciuto E mi dispiace se vi ho annoiato Un saluto Qua era Stepney Bella Ciao 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 Ciao